Con la proroga dello stato d'emergenza il governo ha confermato anche le misure di solidarietà per i cittadini più colpiti dalla crisi economica. Al comune sono stati riconfermati circa 130 mila euro per buoni spesa destinati a persone e famiglie in difficoltà. A questa somma l'amministrazione comunale di Tiene ha aggiunto oltre 17 mila euro raccolti nei mesi scorsi grazie alle donazioni di associazioni e cittadini. L'importo per ogni singola persona non potrà essere superiore a 100 euro.